Le mancate assunzioni compromettono le prestazioni sanitarie. La denuncia arriva dal Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della BAT, Giuseppe Papagni, che invita il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ad intervenire. L'abbassamento dei livelli di assistenza sanitaria è dovuto alla cattiva gestione del personale e alla mancata e scorretta programmazione del fabbisogno di personale. Nella ASL della provincia BAT, in particolare al Bonomo di Andria, si corre il rischio di accorpare reparti e ridurre i servizi che vengono erogati ai cittadini. Sono queste alcune delle parole pronunciate dal Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della BAT, Giuseppe Papagni, in riferimento ai tagli e ai disagi registrati nella sanità pugliese, dove la sospensione temporanea dei ricoveri dell'unità operativa di cardiologia del Presidio ospedaliero di Biceglie, Vittorio Emanuele II, disposta fino al prossimo 10 agosto, è solo l'ultimo tassello di un puzzle che delinea le problematiche e le criticità che la sanità della sesta provincia pugliese sta affrontando. Il problema non è solo dei disservizi dell'ASL della provincia BAT, continua il Presidente dell'Opibat, ma anche della mancata assunzione di personale infermieristico. Il Presidente dell'Opibat invita, alla fine, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ad intervenire ed accogliere le esigenze dei cittadini in un periodo, quello estivo, che vede la riduzione del personale sanitario dovuto alle ferie estive, in un territorio con una forte vocazione turistica. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche farà tutto ciò che servirà per tutelare la salute dei cittadini, garantire le cure anche in questo particolare periodo, conclude il Presidente Papagni. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche